Il gruppo si chiama? The Sunshine Rain Se c'è stata Sunshine Reggae negli anni Ottanta, no? Ecco voi The Sunshine Rain Brian, mi toglie una curiosità Dimmi Come ti ha trovato Riccardo? Allora, praticamente tramite degli annunci Lui stava cercando dei musicisti, un chitarrista Voleva anche un bassista per formare una band, un complesso per poter suonare dal vivo E fortuna vuole che suonassi la chitarra e anche il basso Dunque ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a provare ed è nata questa bella collaborazione Sorrido perché chiaramente questi ragazzi sono alle prime armi Non hanno dietro importanti finanziamenti E quindi che fa il buon Ricci va a trovare quello che da noi si chiama il jolly Cioè gli fai fare il chitarrista, gli fai fare il bassista Esatto Attenzione, trova robe, Brian E capito? Quindi come si fa? Come si fa? Come si fa? Cioè da chitarrista a bassista che fa? Lascia la chitarra in un certo assolo Poi ne prende il bass Poi riprende la chitarra Ma noi... Poi ti tira tutti gli strumenti Che ci stanno conosciuti Allora per sopportarmi Non è assolutamente semplice Questa è la cosa Brian l'ha constatato nella sua pelle No ma per me è come un fratello Nel senso è nata un'amicizia da quando ci siamo conosciuti profondissima Uno scambio di intenti di arte fenomenale Ci siamo subito trovati a meraviglia anche nei pezzi da suonare Confermi Brian Confermo, confermo pienamente perché... Non mi utilizzerò il totale E quindi ecco anche gli artisti stessi Cioè nel senso le prove da quando ci siamo conosciuti è tutto filato alla grande Nel senso... Mi siete conosciuti quanto tempo fa? Ma ormai... Da questa estate si aveva gosto Sì a fine agosto ci siamo conosciuti Per la prima volta ci siamo visti a settembre E la prima prova è stata Brian... La seconda settimana di settembre La seconda settimana di settembre Quindi praticamente abbiamo iniziato subito Con tantissime insidie Soprattutto anche con un problema davanti Perché Brian sta a Monte San Savino Io sono di San Sepolcro Quindi ecco la vicinanza non esiste E per provare abbiamo fatto tanto E soprattutto io mi sono mosso per andare a trovare a lui Per provare nella cantina di casa Mugnai Che ha fatto nascere questo grande progetto Grande Io sono sempre ottimista sotto questo aspetto Perché dico sempre è grande ma non è piccolo Poi il tempo e le serate e poi anche i live che faremo in futuro Dimostreranno se sarà un qualcosa di proficuo Oppure se sarà come diciamo noi un bluff Ma io... Perché deve essere un bluff? Qualcosa... Ma perché... Io tengo sempre aperte due porte Nel senso la porta a quella positiva È che lui e io ci troviamo a meraviglia Anche dal punto di vista collaborativo artistico Perché se in un gruppo c'è sempre la figura del frontman davanti No? Qui non c'è il frontman Siamo io e lui che praticamente ecco Comandiamo a vicenda Nel senso non è che il cantante È un po' come il Luna Pop con Cremonini e ballo Come si chiamava Il Luna Pop Oddio ora mi sfugge Il Luna Pop Vabbè comunque ecco sì Eppure come Giovanotti e Saturnino Esattamente O come ad esempio Max Pezzali e Repetto Quindi sì La stai toccando piano Molto piano È giusto che sia così È giusto toccarla pianissimo È giusto toccarla pianissimo sì Per poi andare non nel grandissimo No comunque a parte tutto È un ragazzo eccezionale Cioè nel senso Collaborare con lui Ti dà proprio quel senso di arte E poi Anche gli stessi gusti Condividere Parlarci Capirci Anche nei momenti quelli difficili Perché poi Noi abbiamo iniziato ad agosto A sentirci tramite Meet Quindi ecco Dal punto di vista online La prima volta ci siamo visti A casa tua Brian Si parla di In età settembre Prima dell'uscita di resta con me Brian Tutto questo per dire che Non c'è trippa per gatti Cioè lui sta fatto Un elogio infinito Per dirvi Caro mio Non mi lasciare Tutto gratis Non c'è neanche Non ci sono neanche i soldi Per far piangere un cieco Una volta Senti Brian Vi siete conosciuti Il primo impatto Qual è stato? Ma il primo impatto è stato Di una persona sicuramente Molto organizzata Che sa perfettamente Quello che vuole Te lo fa capire subito E questa è una cosa che io apprezzo Perché spesso e volentieri In questo ambito Non si sa mai Quello che si va a trovare Qualcuno dice Va bene Troviamoci quel giorno Però l'altro no È quello Una serie di discorsi Che poca serietà Poca serietà Invece l'ho trovato Molta serietà Molta Convinzione anche